Tragedia nella tarda serata di ieri a Santa Marinella, in via 4 Novembre, un'auto con a bordo due giovani è finita fuoristrada, un giovane di 30 anni ha perso la vita. La FIOMCGL esprime il suo giudizio sulla nuova fase che interessa l'area ex privilege, il sindacato dei metalmeccanici vota per lo sviluppo della cantieristica navale. Grande partecipazione al cortè organizzato dai giovani attivisti Civitavecchia, tanti studenti e diverse associazioni hanno girato le vie della città per sostenere i diritti delle donne. Pubblicato sul sito del comune un bando per un contributo rivolto alle famiglie che accompagna una scuola a minori con disabilità, si basa sui chilometri percorsi nel 2022 e a un massimo di 1000 euro. Il cammino è quello giusto, continua il momento positivo del Civitavecchia con Caputo in panchina fondamentali i prossimi due impegni per recuperare terreno sulla capolista Anzio. Ancora una volta buonasera dal nostro telegiornale, apriamo con la cronaca incidente mortale a Santa Marinella, ieri attorno alle 23.30 su via 4 novembre, un'auto di media cilindrata con a bordo due giovani, poco più che trentenni, ha perso il controllo finendo la corsa rovinosamente contro il muro di cinta perimetrale della strada. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno estratto i due ragazzi dalle lamiere, purtroppo il guidatore dell'auto nell'impatto ha perso la vita. L'altro soggetto coinvolto è stato affidato alle cure dei sanitari, sul posto anche i carabinieri di Civitavecchia. La fiuma CGL sposa la cantieristica per l'area ex privilege. In una nota il sindacato dei metalmeccanici chiede a tutti i soggetti in campo di lavorare per scrivere una pagina nuova per il bene della città e rivela che sono già in corso gli incontri di approfondimento tra l'autorità portuale e le ditte che per esperienze e competenze possono portare avanti l'attività della cantieristica navale. Nell'interesse delle tante maestranze che potrebbero avere un'importante occasione per collocarsi o ricollocarsi in un'attività qualificata, per parte nostra ospichiamo l'accoglimento e lo sviluppo di questo progetto in un'area che tra l'altro ha già una funzione industriale di categoria cantieristica. È il passaggio chiave di una nota della fiuma CGL che arriva dopo un lungo silenzio e nella quale il sindacato dei metalmeccanici esprime il suo giudizio in merito alla nuova fase che interessa all'area ex privilege, sposando, senza sé e senza ma, l'ipotesi di un nuovo cantiere navale. La fiuma CGL non fa riferimento a quale progetto si riferisca, se a quello della Tankoa Yacht, di cui si parlano da tempo, oppure di altre società del settore magari interessate a subentrare alla Koenig Royalton, alla quale l'autorità portuale ha revocato la concessione. Compie però una precisa scelta di campo, nella consapevolezza che l'opzione della cantieristica non è scartata a priori e dichiarandosi fiduciosa, che l'autorità portuale saprà orientarsi verso la strada migliore possibile per il comune obiettivo di rilanciare il territorio. Per questo chiede a tutti i soggetti in campo di lavorare per scrivere una pagina nuova, che peraltro sarebbe ampiamente meritata dalla città. Nella sua nota il sindacato dei metalmeccanici fornisce ulteriori elementi rispetto all'iter della fase attuale, caratterizzata dalle risposte che in vari ambiti stanno arrivando all'autorità portuale e alla sua richiesta di manifestazioni di interesse. La FIOMCGL rivela infatti che sono già in corsi gli incontri di approfondimento con le ditte che per esperienza e competenze possono portare avanti l'attività della cantieristica navale e che è in via di formalizzazione alla stessa authority una proposta articolata da parte di una nuova società costruttrice di imbarcazioni medio-grandi. Il nome della società non viene rivelato, ma la scelta di campo da parte di un'organizzazione sindacale che ha grande prestigio e un forte radicamento a Civitavecchia nel territorio lascia chiaramente intendere che forse questa volta ci si trova di fronte veramente ad un progetto serio ed importante. Si è svolta la terza ed ultima giornata del progetto Formati al Porto, destinato agli studenti delle classi quinte dell'Ite Guido Baccelli a cura delle scuole europee. Gli studenti sotto la guida del country manager Marco Muci, accompagnati dai docenti di economia aziendale Mauro Adamo e Giorgio Ciambella, hanno fatto visita ad alcuni dei più importanti terminal dell'area logistico portuale. La mattinata ha avuto inizio con la visita marittima del porto, effettuata a bordo del nuovo rimorchiatore della Rimorchiatori Laziali. Di seguito, grazie anche al sostegno di Port Mobility, gli studenti si sono recati presso il terminal Automotive, dove sono stati accolti dal direttore Renato Carusi, che ha illustrato sul campo i servizi offerti dalla società Automar Logistics. Nel pomeriggio, con l'accoglienza del vicepresidente Sergio Serpente, si è svolta la visita al terminal destinato all'agroalimentare e gestito dalla società CFFT. Infine gli studenti si sono recati presso il terminal Amerigo Vespucci, dove sono stati accolti dal direttore generale di RCT, John Portelli. Tanti studenti alla manifestazione La Forza delle Donne, organizzata dai giovani attivisti Civitavecchia, in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne. Con cartelloni e slogan, i ragazzi hanno attraversato in corteo le strade cittadine dal Tribunale fino al Parco dell'Uliveto, dove si sono susseguiti una serie di interventi. Siamo con gli organizzatori di questa manifestazione, di questo corteo che tra poco partirà dalla Tribunale. Qual è la motivazione che vi ha portato a organizzare questa manifestazione? C'è ancora bisogno di manifestare per i diritti delle donne? Sì, purtroppo è un tema molto d'attualità, perché il divario che ad oggi troviamo nei posti di lavoro, nella comunità in generale, è ancora ampio. Per quanto riguarda la manifestazione, ci sono tanti ragazzi, ecco, segno anche che il tema è anche molto sentito dai giovani, insomma ci sono anche persone un po' più grandi, però ci sono tanti studenti. Sì, oggi hanno aderito molte scuole cittadine e colgo l'occasione per ringraziare i dirigenti scolastici e molte associazioni di categoria. Ringrazio anche loro e tutti coloro anche che hanno collaborato alla buona riuscita di questa manifestazione. Soltanto adesso nel mondo ci si sta rendendo conto che esiste un altro genere, che è il genere femminile e fra le donne fortunatamente si sta sempre più sviluppando il concetto, non dico dell'uguaglianza, perché noi siamo diverse dall'altro genere, ma del guadagnarsi il rispetto, la dignità e la libertà, come ci stanno insegnando le donne iraniane. Certo, tanta strada è stata fatta, ancora c'è da fare, perché il patriarcato, il sessismo è ancora non sconfitto. Per esempio in Afghanistan c'è un apartheid dove le donne vengono nascoste sotto un mantello con le grate, in modo tale che non siano visibili, perché è una società monogenere. E quindi queste donne vengono escluse dal punto di vista sociale, economico, culturale. E purtroppo loro ancora non si stanno ribellando. In Iran è successo il contrario, è successo qualcosa di grandioso, dove le donne con i loro principi della libertà, della vita, dell'uguaglianza, hanno coinvolto tutta la società iraniana. Le parole d'ordine delle donne stanno diventando parole d'ordine di una libertà complessiva dell'essere umano. E' un avanzamento non da poco, dai tempi della rivoluzione d'ottobre. Ci sono anche tanti ragazzi a questa manifestazione, segno anche positivo, che insomma è un tema anche da... Si sta tramandando. Siamo contenti, perché per molto tempo abbiamo vissuto in qualche modo in solitudine il nostro essere femministe, gruppetti di donne. Vediamo che invece adesso le ragazze ci vengono a cercare, perché noi siamo anziane e sarebbe ora che ce ne andassimo in pensione. La presidente della Fondazione Caricev, Gabriella Sarraco, ha ricevuto il premio Donna Fidapa 2023. È andato in scena ieri in un teatro gasman pieno in ogni ordine di posto. L'originale spettacolo intervista con donne fantastiche di Gino Saladini e Anthony Caruana e con la Crime Jazz Band. Nel corso della serata, organizzata dalla sezione Fidapa BPV Italy di Civitavecchia e che ha celebrato la giornata internazionale dei diritti della donna, si è tenuta la consegna dei premi conferiti oltre che alla Sarraco anche alla giornalista della RAI, Carola Carulli. Emergenza educativa. La parola ai giovani è il tema del convegno promosso dalla diocesi di Civitavecchia a Tarquinia, in programma giovedì dalle 10 alle 12 all'Aulapucci. Un appuntamento organizzato con il patrocinio del comune di Civitavecchia nell'ambito del quarto cantiere del cammino sinodale. Dallo scorso dicembre la diocesi ha proposto ai giovani un sondaggio con strumenti social, chiedendo aiutaci a conoscerti, cosa desideri dire agli adulti. I ragazzi hanno risposto con il loro linguaggio. 150 opere individuali e collettive, tra canzoni rap, video, brani musicali, poesie e disegni. Dopo i saluti del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l'incontro sarà introdotto dal vescovo Gianrico Ruzza. A leggere le diverse forme artistiche sarà padre Paolo Benanti, teologo francescano del terzo ordine regolare, docente di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana, esperto di etica, bioetica ed etica delle tecnologie, un attento conoscitore del linguaggio giovanile e del mondo social. È stato pubblicato sul sito del Comune un avviso pubblico rivolto alle famiglie che accompagna una scuola minori con disabilità. Il contributo finanziato dalla Regione Lazio è di 48 mila euro per ogni nucleo familiare, è previsto un tetto massimo di mille euro. Il rimborso si basa sul numero di chilometri percorsi dalle famiglie nel 2022 nell'accompagnare ragazzi disabili all'asilo e a scuola elementare e media. Per partecipare al bando bisogna accedere al sito del Comune e soddisfare i requisiti obbligatori. La scadenza per le domande è fissata per il 3 aprile alle ore 12. Dimitri Vitali è stato pubblicato un avviso pubblico, si parla di un contributo per le famiglie che hanno un figlio o comunque un minore con disabilità, è insomma un contributo importante per le famiglie, possiamo dire così? Eh sì, lo Stato ha messo a disposizione all'incirca per quest'anno 48 mila euro e poi per il 2023 già ci è arrivato un fondo della solidarietà sociale che supera i 100 mila euro, quindi ripeteremo sicuramente il prossimo anno l'avviso che in sostanza consiste nel chiedere un rimborso al Comune per quelle famiglie che hanno dei ragazzi disabili e che le accompagnano a scuola ovviamente. Non solo a Civitavecchia ma possono accompagnarle a scuola anche nei comuni di Dimitrofi, lo so, Santa Marinella piuttosto che Tolfa, Lumiere, Ladispoli, Fiumicino, non lo so. I ragazzi vanno dall'asilo alla scuola elementare fino alla terza media, quindi la scuola sostanzialmente dell'obbligo. E ripeto, è un contributo fino a mille euro a famiglia che non è tantissimo, però chiaramente meglio quello che niente. La prima volta che si fa una cosa del genacido è che io sono molto contento di questa iniziativa che il mio assessorato ha redatto, un grazie chiaramente al lavoro svolto dagli uffici, dalla dirigente, la dottoressa Bodò, che puntualmente ha reperito e ha individuato questo tipo di finanziamento. Ci auguriamo che venga data massima diffusione pubblicitaria, pubblicitaria e informativa a questa situazione, sicché noi possiamo poi ripetere il prossimo anno che ci sarà quasi il doppio, se non di più, di finanziamento statale per questa cosa. Un grazie chiaramente al partito che rappresento, della Lega, che comunque mi è stato vicino, il gruppo consigliare, su questa iniziativa che sarà sicuramente una cosa buona per molte famiglie che vivono sicuramente difficoltà. Dopo l'ampliamento dello scorso settembre, anche la farmacia Bocelle si dota di un cardiopoint, simile a quello già attivo presso la farmacia Cisterna. Da oggi a disposizione di tutti gli utenti un'apposita sala, dotata delle apparecchiature necessarie alla diagnostica cardiologica. In particolare sarà disponibile un elettrocardiografo ECG Edan, in grado di poter elaborare il classico elettrocardiogramma e il successivo referto, particolarmente indicato per chi svolge attività sportiva. La farmacia potrà quindi garantire rapidissimi tempi di esecuzione degli esami senza lunghe attese. L'esame potrà essere prenotato telefonicamente al numero 0766 070036. Eseguito l'esame, la farmacia potrà garantire il referto in giornata o comunque nelle 24 ore successive. I costi dei servizi sono perfettamente allineati con i ticket sanitari del Servizio Sanitario Nazionale. Si svolgerà venerdì alle 16 presso la sede della Fondazione Cari Civ, un importante convegno che affronterà il tema della legge dopo di noi, promosso dai Lions Civitavecchia Santa Marinella Host. Scopo dell'iniziativa è offrire una formazione e una corretta informazione ai familiari di ragazzi e ragazze invalidi o affetti da particolari patologie invalidanti. Interverranno numerosi esponenti del mondo legale, oltre che istituzionale. L'evento è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ai fini della formazione continua. Ascoltiamo le interviste. Un convegno importante promosso dai Lions Club di Civitavecchia Santa Marinella Host su un tema fondamentale per chi guarda il futuro dei propri figli con disabilità, con malattie come l'Alzheimer ma anche tante altre patologie, per dare informazione soprattutto ma anche qualche garanzia in più. Il convegno quando si terrà e come viene svolto? Il convegno si terrà venerdì 10 marzo alle ore 16 presso la sala della Fondazione Giussi Currado e con l'ausilio insieme alla Lions Club e insieme alla Camera Civile nella qualità dell'Avvocato Paolo Peruzzi e stiamo organizzando questo convegno proprio per dare ai cittadini ma soprattutto alle famiglie che hanno questa problematica delle risposte dal punto di vista sia amministrativo che dal punto di vista sociale. Il Tribunale insieme alle strutture territoriali dell'assistenza sociale, quindi i servizi sociali, che sono il primo presidio per la popolazione e per chi ha bisogno di un sostegno, il Tribunale è il soggetto unico e qualificato per formalizzare quelle che sono le istanze dei soggetti che hanno necessità di un ausilio. Quindi tramite il Tribunale si può chiedere la nomina di un'amministrazione di sostegno. Quindi durante questo convegno verranno a renderci edotti di questi aspetti il magistrato del Tribunale Barzellotti, la nostra collega avvocato Marina Massi che lei è magistrato onorario presso il Tribunale di Grosseto e unitamente al notaio Angelotti e all'Avvocato Carbone che ci daranno invece delle indicazioni per quanto riguarda gli aspetti pratici e privatistici, cioè come possiamo formalizzare degli atti per stare tranquilli per il domani di questi nostri familiari con delle disabilità o delle grosse problematiche. A chiusura del convegno parteciperà anche lo psicologo per dirci e chiarirci come concretamente nel territorio sono state strutturate delle unità di accoglienza di questi soggetti. Parlare del dopo di noi se ne deve sempre perché sono tante, tante le famiglie che vivono il grave problema pensando a quando loro dovranno lasciare questi ragazzi e ragazzi con problematiche. Benissimo quello che ci ha da poco detto la dottoressa Paola che ci ha detto che si farà in modo di costituire un osservatorio nel quale saranno presenti avvocati, psicologi che monitoreranno e questa a mio avviso è la cosa più bella che può uscire da questo convegno. Il prossimo incontro dei giovedì dell'archeologia giunto alla seconda edizione è dedicato a Salvatore Bastianelli, padre dell'archeologia civita vecchiese fondatore dell'associazione Centumcelle nel 1911 e del museo civico realizzato nel 1918. I suoi scavi e le sue ricerche condotte in diversi siti del territorio aprono la strada alla conoscenza della storia più antica del comprensorio preziose le sue minuziose annotazioni delle campagne di scavo e dei rinvenimenti fortuiti. L'evento si darà domani alle 17 presso la Biblioteca Cialdi di Piazza Calamanta. Non è discorso con tutte esibizioni dal vivo, giovani promesse della canzone si sono esibite sul palco di fronte ad un pubblico entusiasta in una gara a canora di alto livello che ha messo a dura prova la giuria Sanremo Sanremo, festival della canzone per le scuole, giunto ormai alla sua ottava edizione sempre a favore della fondazione Teleton. Esther Maria Grienti ha egregiamente rappresentato il liceo musicale Galileo Galilei nella sezione nuove proposte con la magistrale esecuzione del brano di Mina mi sei scoppiato dentro al cuore nella versione di Annalisa aggiudicandosi il premio della critica per la miglior interpretazione assegnato dal cantautore Giorgio Baldari unitamente ad una borsa di studio per songwriting. domani alle 20 presso la trattoria da Amina Sita in via Ugo Fontanatetta 14 la Cristian e Furia ODV organizzerà la sesta cena benefica in collaborazione con l'associazione sportiva FLC centroippico di Fabio Cozzorino i fondi ricavati verranno donati alla Caritas per aiutare i più bisognosi saranno presenti il responsabile della Caritas Stefania Milioni l'assessore Dimitri Vitali e i consiglieri comunali Elisa Pepe e Pasquale Marino menù un primo a scelta tra ragù o amatriciana vassoio di prosciutto, insalata e piselli con pancetta un quarto di vino, acqua e caffè la cena avrà il costo di 25 euro a persona dei quali 10 euro andranno a coprire le spese del ristorante il resto sarà consegnato direttamente al responsabile della Caritas Passiamo ora a una segnalazione che ci arriva dal quartiere Faro per la precisione da via degli Orsini un nostro lettore e telespettatore ci ha contattato per parlarci della brutta situazione in cui versa il manto stradale come si vede dalle foto che ci sono state inviate la carreggiata vede la presenza di buche insidiose dossi dissestati e materiali di abbandono si tratta di una situazione che i residenti sperano che venga risolta quanto prima come di consueto giriamo la segnalazione agli organi di competenza e con questo termina la prima parte del nostro telegiornale ma rimanete con noi perché dopo il break apriamo la pagina sportiva veniamo quindi alle notizie sportive la strada è quella giusta l'allenatore del Civitavecchia Paolo Caputo spinge i suoi in vista delle prossime partite dopo il pareggio con l'Unipo Mezzia e Nerazzurri sono attesi da due sfide complicate e fondamentali per centrare l'obiettivo stagionale prima ci sarà il match con la Visezze e poi quello con la Boreale che ha gli stessi punti dei Civitavecchiesi il servizio il Civitavecchia vuole lasciarsi alle spalle la trasferta di Pomezzia e concentrarsi solo sulle prossime due importantissime gare sul campo dell'Unipo Mezzia è arrivato l'1-1 che visto il valore delle due squadre può andare bene ma lascia anche un po' di rammarico la squadra nell'Azzurra ha infatti fallito un calcio di rigore con Vittorini e nel finale di partita ha sfiorato i tre punti abbiamo disputato un'ottima partita spiega l'allenatore della Civitavecchia Paolo Caputo soprattutto nel primo tempo quando meritavamo di più poi negli ultimi minuti con un po' più di fortuna potevamo vincere la strada è quella giusta e il gruppo risponde bene collettivo Civitavecchiese che tra l'altro ha dedicato una maglietta speciale al suo capitano Riccardo Serpieri ha infatti indossato al suo ingresso in campo la maglia con il numero 10 e con la scritta Forza Capitano siamo tutti con te per dimostrare vicinanza a Luigi Ruggero che ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro grazie al pari di Pomezia Civitavecchia rimane al secondo posto in classifica a pari punti con centro sportivo Primavera e Boreale e a soli 4 punti dalla capolista Anzio la squadra è cresciuta in maniera evidente con Caputo in panchina dal suo ritorno in Razzurri non hanno mai perso portando a casa due vittorie e tre pareggi questi ultimi tutti con squadre che lottano per i primi posti della classifica fondamentali saranno le prossime due partite di eccellenza per centrale l'obiettivo di inizio stagione che è quello ma è nascosto di finire al primo posto che porterebbe diretti in Serie D o al secondo per giocarsi playoff domenica Serpieri e compagni sfideranno Altamagnini la Vissezze con pagina settima in classifica ma in grande crescita in questo 2023 e quindi molto pericolosa tra due settimane poi ci sarà la difficile trasferta romana sul campo della Boreale che condivide il secondo posto con i Nerazzurri e che all'andata si impose per 3 a 1 sulla squadra allora allenata da Alessio Bifini due gare che per i Nerazzurri valgono una stagione intera e in cui sarà vietato sbagliare Lutto nel mondo della pallannuoto locale e nazionale deceduto Gianni Fedele storico dirigente federale della FINA nel settore della pallannuoto per un arresto cardiaco in seguito ad un incidente avuto in autostrada Fedele aveva a lungo svolto il ruolo di match analyst per il CT Sandro Campagna con il sete bello partecipando a moltissime importanti spedizioni tra cui la vittoria nel mondiale del 2011 a Shanghai e il bronzo alle olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro la carriera pallannuotistica di Fedele era iniziata come giocatore sia alla SNC che alla Tirrena rimanendo col passare degli anni molto legato ai suoi vecchi compagni di squadra nel 2019 Fedele aveva ricevuto anche un premio speciale al Caimano d'Oro in queste ore sono numerosissimi personaggi di spicco della pallannuoto da tutta Italia che stanno rendendo omaggio al dirigente come annunciato nelle scorse settimane dall'assessore ai lavori pubblici Roberto Dottavio il progetto per la ricostruzione del pala grammatico a San Liborio sarà suddiviso in due fasi l'ufficialità emerge andando a spulciare l'albopretorio del comune sono previsti 1.500.000 euro per la fase 1 con il campo coperto e le predisposizioni impiantistiche e 850.000 euro per la fase 2 con locali accessori e impianti per la quale si provvederà ad avanzare ulteriore richiesta di finanziamento o a prevedere una fonte alternativa la delibera di giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo dalla fase 1 il comune può procedere all'affidamento dei lavori con la determina contrarre ovvero la volontà di stipulare il contratto potrebbe esserci un'altra importantissima vetrina internazionale per Giulio Marano la ginnasta della SG è stata inserita nella prelista della nazionale italiana per i mondiali juniores in programma dal 29 marzo al 2 aprile ad Antalya in Turchia assieme a Caterina Gaddi Giulia Perotti e Matilde Ferrari potrebbe essere un'altra grande notizia per il presidente Pierluigi Miranda per i coach Camilla Ugolini e Marco Massara dopo le due medaglie in Coppa del Mondo di maniera esposito i prossimi giorni saranno determinanti per sciogliere le ultime riserve esperienza vincente per Erasmo Sabatini preparatore dei portieri con la rappresentativa nazionale della LND al torneo il calcio è rosa che si è disputato in provincia di Roma con selezioni provenienti da varie zone dell'Europa nella finale le azzurre non hanno avuto problemi a travolgere per 4 a 0 l'Economist squadra del Montenegro il gruppo aveva già dimostrato la propria supremazia nel corso della fase a Gironi vincendo tutte le partite disputate ora un po' di riposo per Erasmo Sabatini in vista di un altro appuntamento di spessore il trofeo di Viareggio in programma nella seconda metà del mese e termina qui questa edizione del TRC Giornale prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri profili social Facebook Youtube Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it per quanto mi riguarda è tutto io vi ringrazio per la gentile attenzione auguro a tutti un buon proseguimento di serata arrivederci a tutti